Quindi il titolo del mio messaggio stasera è Una chiamata ad effetto. Se c'è qualcosa che posso testimoniare che Dio ha fatto di veramente grande in questa mia vita, nella mia vita in questi ultimi sei anni è stato proprio nella chiamata. Tutti sappiamo che Dio ci ha chiamati, ci ha scelti e ha uno scopo per ognuno di noi, tutti, tutti noi, nessuno escluso, tutti siamo stati chiamati da Dio e volevo leggere subito, andando alla parola, il verso in Geremia 1.4.5 che ho tradotto da The Message, che dice così Prima ancora di plasmarti nel grembo materno, sapevo tutto di te. Prima che tu vedessi la luce del giorno, avevo già un piano divino per te. Questo verso dice tutto. Prima ancora di essere stati creati, c'era già quel proposito creato apposta per noi. E quindi quel progetto è stato fatto apposta per te. Quel progetto è stato creato proprio su misura per te. E immaginavo, sapete, quando noi donne siamo in gravidanza, no? Cosa facciamo? Prepariamo il correddino per il bambino, la bambina che verrà. E cosa facciamo? Andiamo a prendere il vestitino, no? Scegliamo il vestitino pensando che la misura è quella giusta. Nel caso mio, ad esempio, col mio secondo genito, il vestitino che avevo preso zero era troppo grande. Mi fa sorridere questa cosa. Noi pensiamo, immaginiamo quel bambino, che nascerà quella bambina, con quella misura lì. Però non siamo, non sappiamo come sarà grande. Potrebbe stupirci, potrebbe essere più piccolo o più grande. Invece Dio sa già tutto di noi. Sa esattamente quanti capelli ci sono sul nostro capo. E questa è una cosa meravigliosa. Dio ha un proposito e l'ha creato prima di te. Ha creato prima il proposito e poi ha creato te. Quindi dobbiamo credere in questo. Come possiamo realizzare il proposito di Dio, lo scopo di Dio, il destino per la nostra vita? Entrando nella piena consapevolezza. La consapevolezza è essere coscienti di qualcosa. La parola consapevolezza deriva da consapere, con e sapere. Ovvero sapere di essere. Se sei consapevole di qualcosa, mi piace molto questa citazione, dice se sei consapevole di qualcosa, la fai esistere. Soltanto se sei consapevole. E questo vale per la nostra vita. Se sei consapevole che Dio ti ha chiamato, ti ha scelto, allora tu inizierai ad esistere, a vivere realmente. Posso dirvi che io penso di essere nata una seconda volta quando ho iniziato a essere consapevole di tutto quello che Dio mi aveva chiamato a fare. E questa consapevolezza si realizza, si ottiene soltanto avendo rivelazione. La rivelazione che soltanto Dio può darci. Non possiamo cercarla, prenderla così da un giorno all'altro. È un percorso ogni giorno nella ricerca di Dio. La rivelazione cos'è? Ho trovato una definizione molto bella che mi ha colpito particolarmente, che a volte parliamo di rivelazione. Anche per chi è nuovo, dice cosa significa la rivelazione? Quindi volevo leggerla. È un'azione soprannaturale attraverso il quale Dio porta l'uomo a comprendere le verità, delle verità per nulla conoscibili con la sola ragione. Ci sono cose che non potrai comprendere con la tua ragione, ma soltanto nel tuo tempo col Signore, spendendola alla sua presenza, potrai essere consapevole di chi realmente sei, di cosa Dio ha preparato per te. E quelle cose nel momento in cui tu le inizi a realizzare, inizi a realizzare che Dio ha preparato qualcosa, uno scopo per te, allora tu inizi ad esistere realmente. E quindi stasera vi darò tre punti, o meglio, tre aree in cui Dio ti chiama alla consapevolezza. Sapete, io non ero quella che sono oggi, sei anni fa, vent'anni fa. Ero totalmente diversa, timida, introversa, insicura. Ero tutt'altro. Però so che un giorno Dio ha iniziato a seminare in me parole, attraverso la sua parola, attraverso anche tante persone che Dio ha messo sul mio percorso, che hanno iniziato a far nascere in me una consapevolezza differente. Ho detto, wow, allora davvero Dio ha qualcosa per me di grande, di meraviglioso, di unico. Quindi andiamo già col primo punto, subito al primo punto. La prima aree in cui Dio ti chiama alla consapevolezza è l'identità. Chi siamo in Dio? Chi sono in Dio? Che cos'è l'identità? È l'insieme di tutti i nostri dati personali che ci rendono riconoscibili nella nostra autenticità. Sulla nostra carta di identità abbiamo dei dati, nome, cognome, altezza. Siamo tutti differenti l'uno dall'altro, siamo autentici. E Dio ci crea con un'identità naturale, ma anche con un'identità spirituale. Nel soprannaturale abbiamo la nostra identità. Ad esempio, vorrei farvi un esempio. Mi è successo tanti anni fa, all'inizio che frequentavamo i campeggi, ero adolescente. Mi ricordo che mi fu data una parola profetica da un profeta che mi ha veramente scioccato. Io non mi guardavo come ciò che lui mi disse in quella parola. Disse, io ti vedo come un leone, con uno scudo in mano e vedo dietro di te un esercito di gente che ti segue. Non è possibile, io non mi vedevo così. Io mi vedevo come un piccolo animale, un gattino. E dicevo, non è possibile che io possa diventare questo. Per me era davvero qualcosa di irraggiungibile. Però quella era una parola data direttamente dal Signore. Perché Dio, quando ci ha creati, ci vede già come diventeremo. E durante il percorso, ad esempio, io posso parlarvi di quella che sono diventata fino ad oggi. Ma non oso immaginare quello che Dio farà di me, di voi, di ognuno di voi, da qui alla fine dei nostri giorni. E siamo destinati a qualcosa. In questo destino noi siamo trasformati continuamente. E volevo leggervi un verso, in Efesini 1, 11, 12, che parla proprio dell'identità. L'ho tradotto dalla versione di The Message. Fa così. E' in Cristo che scopriamo chi siamo e per cosa viviamo. Molto prima che sentissimo parlare per la prima volta di Cristo e nutrissimo le nostre speranze in Lui, Dio aveva già i Suoi occhi su di noi. Aveva già dei progetti su di noi. Per una vita gloriosa, parte dello scopo generale che stia realizzando in tutto e in tutti. Da dove possiamo comprendere realmente chi siamo? Soltanto in Cristo. Su cosa abbiamo basato la nostra identità? Su ciò che gli altri hanno detto di noi? A me me ne hanno detto tantissime. E sapete come tutte quelle parole cattive che dicevano su di me, quelle parole che erano il contrario di ciò che Dio pensava di me, e le avevo messe come su un quaderno. Era un elenco di frasi che avevo come fatto mie. E avevo basato la mia identità su quello. Quando la parola di Dio diceva tutt'altro. Io mi vedevo insicuro, Dio mi vedeva sicura. Io ero debole, ma Dio mi vedeva forte. Questo è quello che Dio dice nella Sua parola. Ed è in Cristo, soltanto in Cristo, che troverai la vera versione di te. Dio aveva quindi i Suoi occhi su di noi, aveva dei progetti, una vita gloriosa e uno scopo generale. Quindi noi siamo parte di un grande scopo per tutti, tutti, nessuno escluso. Dio ti conosceva prima ancora che tu nascessi. E già credeva in te, già credeva in me. Vedeva già quello che io sarei diventata, quello che tu saresti diventato fino ad oggi. E vogliamo credere che siamo in un processo e c'è sempre da crescere. Quindi non sei quello che vedi, tu sei quello che Dio vede. I veri occhi non sono i tuoi, sono i Suoi. I Suoi occhi sono i veri occhi attraverso il quale noi dobbiamo guardarci. Vogliamo continuare a specchiarci nella Sua parola per scoprire realmente chi siamo, la nostra vera identità. E mentre lo servi, mentre lo serviamo scopriamo chi siamo. Io gli servivo Dio ma non sapevo chi ero. Mentre lo iniziavo, è come quando inizi a lavorare in un'azienda, no? Il tuo datore di lavoro ti assume, ma tu non lo conosci realmente. Però mentre ci lavori, ci parli, inizi a conoscerlo, inizi a prendere fiducia. E così anche con Dio. Mentre lo servi, inizi a comprendere realmente chi sei. Chi è Dio e cosa Dio vuole fare. Vogliamo andare anche al secondo punto. Dio ci chiama ad avere consapevolezza dei nostri doni. Ovvero quello che Dio ci ha affidato. Dio ci ha affidato ad ognuno di noi qualcosa. Un dono, un'abilità innata, questa è la definizione, cos'è un dono? L'abilità innata nel fare qualcosa. Una predisposizione, capacità particolare, qualcosa che ti riesce naturale fare. Tutti siamo, tutti Dio ha affidato qualcosa, un dono. Nessuno è escluso. In primo Corinzi, 12, 6, 7, questa è, per me, è stata veramente una grande rivelazione. Perché nella parola di Dio, questo verso parla del corpo di Cristo e noi siamo le sue membra, no? Ognuno ha una parte, ognuno è parte del corpo. E mi è piaciuta tanto questa traduzione. Le varie espressioni del potere di Dio sono in azione ovunque. Ma dietro a tutto c'è Dio stesso. Ad ogni persona viene dato qualcosa da fare che mostra chi è Dio. Tutti ci entrano. Tutti ne traggono beneficio. Come on! Significa che noi siamo la massima espressione, attraverso i doni che Dio ci ha dato, di ciò che Dio è. Siamo la sua massima espressione sulla terra. Quando tu ti muovi nel tuo dono, nella tua grazia, in ciò che Dio ti ha affidato, tu stai trasmettendo agli altri realmente chi è Dio. Ho immaginato questa scena. Dio che ci fa un dono, no? Stiamo parlando di doni, no? Tu scarti il regalo, wow! E poi lo riponi, lo lasci lì e rimane lì. Cosa farebbe un padre, no? Se un padre ti fa Dio stesso, no? Ci ha fatto un dono. Un padre, ad esempio, rimarrebbe male. Noi siamo appena usciti dalle feste natalizie. Se fai un dono a tuo figlio e lo lascia lì, non ci gioca, ci rimane un po' male, no? Quindi un dono, un dono che non viene usato, un dono non apprezzato. Stai apprezzando il dono, i doni che Dio ha messo nella tua vita. Dio vuole che noi iniziamo a muoverci nella grazia e nel dono che ci ha affidato. Perché cosa significa affidare? Di mettere qualcosa nelle mani di qualcuno con la certezza che ne farà un buon uso. Dio si fida di te, Dio si fida di me. Dio sa che se ti ha dato quel dono è perché è certo che tu puoi trafficarlo, che tu puoi usarlo, tu puoi essere una benedizione per le persone intorno a te e per la tua vita stessa. E vi dicevo, anni fa io non ero consapevole del dono che Dio mi aveva dato, o meglio, sapevo di avere delle abilità, ma non ero consapevole che il mio dono nelle mani di Dio poteva diventare qualcosa di grande, di potente. Servivo, servivo, ho iniziato a servire con la lode, con la musica. Sapevo che c'era un'abilità in me, non l'ho mai negato. Però ho iniziato a vedere, quando ho iniziato a vedere che c'era qualcosa di più, che attraverso il mio dono guidato da Dio, dalla sua presenza, sono diventata più consapevole. Sapevo, so che quando mi muovo con la sua presenza, Dio si usa di me di quel dono che mi ha dato, il dono che ci ha dato. Puoi quindi sapere di avere doni, ma soltanto avendo consapevolezza di cosa possono essere nelle mani di Dio, potranno avere un impatto per la tua vita e per le persone intorno a te. Amen. Vogliamo avere consapevolezza di chi siamo in Cristo e di ciò che Dio ci ha affidato, perché si fida di ognuno di noi. Noi ringraziamo il Signore per questa fiducia che ci sta dando. Ultimo punto, la presenza, è il punto principale che lega gli altri due punti. Dio ci chiama ad essere consapevoli della sua presenza, consapevoli di cosa possiamo fare con Lui, insieme a Lui. Andiamo nel verso Esodo 33, 14. L'Eterno rispose a Mosè, la mia presenza andrà con te e ti darà riposo. E Mosè rispose, se la tua presenza non viene con me, non farci partire da qui. Questa è stata una delle mie preghiere tanti anni fa. ho detto, Signore, io non voglio andare da nessuna parte se la tua presenza non mi accompagna, perché possiamo essere consapevoli che Dio ci ha chiamati, ma faremo la differenza soltanto se siamo consapevoli della sua presenza. Un conto è fare le cose per Dio, e un conto è farle per Dio, e un conto è farle con Dio. Sapete, per anni mi è successo di servire Dio, sapevo che era qualcosa che Dio mi aveva chiamato a fare, ed era anche di benedizione per tante, perché per grazia Dio si usa di noi. Però è tutta un'altra storia quando inizi a essere consapevoli che quando ti stai muovendo in ciò che Dio ti chiama a fare, Dio è con te, la sua presenza è con te, ti accompagna per fare la differenza. Come dice sempre il pastore Francesco, Dio non ti chiama a fare, Dio ti chiama a stare. Stiamo alla sua presenza. Mi è successa una volta, tempo fa, ci trovavamo al Teatro Marconi, e mi ricordo che quel periodo era un po' scarica. Chi non vive momenti, no? Qui siamo scarichi spiritualmente, un po' pigri, no? Perché è un processo su cui dobbiamo lavorare di stare alla presenza di Dio. E mi ricordo che ero scarica in quel tempo, e stavo guidando la lode, e mi ricordo che mi inizia a dichiarare delle parole, io non sentivo niente, non sentivo, e dicevo, Signo ma dove sei? Ti sento. E sembrava che ciò che dichiaravo, quelle parole, salissero al soffitto, rimanessero lì, e poi cadevano giù. Parole che andavano al soffitto e li cadevano giù. E non avevano quell'effetto. E dicevo, Signo ma che sta succedendo? Perché tante volte mi è successo e Dio si è usato comunque, no? E ti può andare bene. Poi ci sono anche dei momenti, Dio si usa di noi perché ci ama, perché ama il suo popolo, e sa che noi possiamo, poi ci sono dei momenti in cui Dio ci spinge, ci fa anche sbattere con la testa al muro e dire, tu senza di me non puoi fare niente. Senza la sua presenza, il nostro talento, i nostri doni, non fanno la differenza. Possono essere un'emozione per quelli intorno a noi. Infatti mi ricordo che quando ero più giovane, ero ragazzina, e ho iniziato a servire il Signore con la lode, mi dicevano sempre che bella voce che hai, che bella voce che hai. E ad un certo punto, all'inizio fa piacere che ti fanno i complimenti sul dono che hai, che hai quell'abilità, però ad un certo punto è come se dentro di me è scattato qualcosa, ho detto, Signore ma io non voglio questo. È come se la gente mi sta dicendo, mi sta confermando qualcosa che già so. Ma io chiedevo di più al Signore, io voglio che la mia chiamata abbia un effetto sulla vita degli altri, sulle persone intorno a me, sulle persone che Dio ha messo intorno a me. E la mia preghiera fu proprio questa, disse, Signore io voglio che la mia voce possa arrivare nei cuori delle persone, che possa entrare dalle loro orecchie, ma che possa entrare dritta al cuore, scendere al loro cuore, possa cambiare la loro vita. E mi ricordo che poi Dio mi ha veramente stupita, perché durante poi, dopo quel periodo, poi ci siamo sposati, ho iniziato a scrivere dei canti. E mi ricordo che all'epoca abbiamo inciso un CD prima di Quippers e mi ricordo che abbiamo avuto testimonianze di persone che ci hanno scritto e ci hanno detto che quando abbiamo ascoltato quelle lodi io ero in una situazione in cui volevo togliermi la vita, volevo farla finita. Invece, ascoltando quelle canzoni che avete scritto, il Signore mi ha stravolto, mi ha cambiato totalmente. E noi vogliamo che la chiamata di Dio abbia un effetto. Perché bisogna entrare sempre di più in questa consapevolezza, parlando della presenza di Dio? Perché solo se ci muoviamo con Dio saremo capaci di abbattere la nostra ragione e far entrare Dio in azione. Come on. È così. Quando sei consapevole della presenza di Dio e della sua potenza riesci a fare cose che nel naturale tu non faresti mai, impensabili. È così. Io ho iniziato a fare cose che hanno abbattuto il mio schema mentale, il mio carattere, le mie insicurezze. Ho iniziato a osare con Dio. Dio, ma se tu mi hai chiamato e mi hai detto che devo fare questa cosa, allora io la farò. E mentre tu fai le cose per Dio inizia a sperimentare che non è come pensavi tu. Non è come ti avevano detto che tu eri. Non sei capace. Non farai mai niente di buono nella vita, mi disse una volta una professoressa a scuola. Tu non farai mai niente di buono. Ma io ho scelto di mettere da parte quelle bugie. Mi ho scelto di dire Signore, io voglio credere a ciò che tu dici di me. Se vuoi muoverti nella consapevolezza della presenza di Dio, di imparare a perdere il controllo, devi prendere te stesso e la tua mente, i tuoi pensieri e li metti in un angolo e dici a lei stai un attimo lì adesso, lasciamo fare a Dio. Noi siamo solo un canale attraverso il quale Dio vuole muoversi per fare la differenza. Siamo in una realtà di chiesa dove possiamo sperimentare questo, dove possiamo muoverci nei nostri doni e questo è meraviglioso. Abbiamo una missione, ognuno di noi ha una missione e mi immagino un esercito, siamo come un esercito, tutti vestiti da soldati con il fucile, la bomba, sai che andiamo in guerra, ma immagina se vai in guerra e non sai come si usano quelle armi. Che rischio c'è? l'esercito è che ti potrai fare male. Dio ti ha dato qualcosa di così potente tra le mani che se solo tu ne prendi consapevolezza qualcosa inizia a cambiare nella tua vita e nella vita delle persone intorno a te, nella tua casa, nella tua famiglia. Quando ti muovi per grazia, anche le persone che non credono in te iniziano a vedere qualcosa di buono. Volevo leggere un ultimo verso in Giovanni 15,5 di The Message. Questo verso è la chiave per essere consapevoli della presenza di Dio, ma soprattutto come come essere consapevoli, anzi, come possiamo avere effetto nella chiamata che Dio ci ha dato. Dice così, questo parla, non so se avete sentito quel verso che dice sono la vita e voi tracci. Questa è la traduzione. The Message dice quando sei unito a me e io a te in una relazione intima, il raccolto sarà sicuramente abbondante. Separato da me non produrrai nulla. e la relazione intima e personale con Dio che ti fa entrare in un mondo soprannaturale dove riesci a vedere realmente chi sei, cosa Dio ti ha affidato e cosa Dio può fare attraverso di te. Nessuno può iniziare un viaggio con la macchina in riserva. Devi fare il pieno per arrivare a destinazione. Dio ti ha affidato la macchina, ti dice anche la destinazione ma a te sta a fare il pieno. Una volta l'Apostolo Mario anni fa mi disse una cosa che mi toccò il cuore. Fu molto forte però l'ho presa al cuore veramente come un padre. Disse tu sei arrivata in riserva, stai attingendo con quelle gocce che ti sono rimaste e Dio ti chiama ad attingere, attingi di più della sua presenza. Poteva essere un'offesa in quell'attimo invece io ho detto è vero, era la realtà di quello che io vivevo. Dio manderà sempre qualcuno a ricordarti anche che stai sbagliando ma ti ricorderà chi sei realmente. Se sposti il focus un attimo puoi dimenticare ma Dio chiamerà sempre qualcuno che ti ricorderà chi sei, i doni che hai e cosa Dui può fare attraverso di te. Amen. se sei impegnato ad ascoltare Dio se sei impegnato a stare alla sua presenza ti assicuro che il nemico non avrà il tempo non avrà spazio per venire a dirti per venire a parlarti di cosa stai riempiendo gli spazi vuoti nella tua vita i social cose che non servono ci sta bene un po' ma negli spazi vuoti di cosa ti stai alimentando se vuoi avere veramente effetto nella tua chiamata devi andare ad attingere alla sua presenza avete mai sentito quella frase che spesso abbiamo detto penso un po' tutti l'emico mi attacca sempre nel mio punto debole è vero? e mentre pensavo a questa frase il Signore mi ha fatto proprio vederla sotto un altro punto di vista quelli non sono i tuoi punti deboli quelli sono i tuoi punti forti perché è proprio lì che Dio vuole lavorarti nelle tue debolezze in ciò che per te sembra un punto debole è proprio lì dove Dio vuole entrare lavorare e stravolgere la tua vita sai perché? perché il nemico conosce il tuo potenziale sai che se inizi a lavorare su quell'area della tua vita qualcosa di straordinario succederà come Dio conosce anzi il nemico conosce il potenziale anche meglio di noi qualche volta perché lui lo sa che se tu inizi a lavorare su quello che Dio ti ha chiamato qualcosa inizia a cambiare la tua chiamata inizia ad avere effetto nella tua vita e nella vita delle persone che Dio ha messo intorno a te qualcosa inizia a cambiare noi vogliamo essere stravolti da questa verità farla nostra abbracciarla se il nemico sa quanto io posso fare per Dio quanto ancora io quanto ancora di più io noi perché non dovremmo averne consapevolezza io sento forte questa parola questa sera e so che qualcuno qui in questo luogo forse qualcuno che ci sta seguendo a casa ha ricevuto questa parola come una risposta da parte di Dio e volevo chiedervi di alzarvi in piedi cosa dove hai deposto il tuo dono a che hai lasciato mettere sentenze sulla tua vera identità cosa stiamo facendo entrare nel nostro cuore bugie del nemico o ciò che Dio dice di noi Dio ti chiama ad avere consapevolezza di chi tu sei quindi che sei figlio sei scelto sei amato che hai uno scopo una chiamata un dono doni che Dio sta non vedi l'ora che tu inizia a mettere in atto ad avere coraggio ad iniziare a dosare iniziare a credere che attraverso di te Dio può fare grandi cose molto spesso vediamo gli altri andare avanti ma Dio dice questo è il tuo tempo Dio vuole dirti che questo è il tempo in cui inizi ad essere consapevole di chi sei realmente di ciò che puoi fare e di ciò che Lui vuole fare attraverso di te e se questa parola questa sera ha toccato il tuo cuore in modo particolare ti chiedo di pregare insieme a me questa sera grazie Signore grazie Signore per la tua immensa bontà per il tuo amore per la tua grazia Signore grazie Padre perché tu hai dato tutto te stesso hai dato tuo figlio su quella croce per noi e noi non basterà una vita per poterti ringraziare ma vogliamo aprire a te il nostro cuore affidare a te ogni parte del nostro essere vogliamo arrenderci a te vogliamo essere arresi vogliamo essere uno strumento nelle tue mani e io dichiaro in questa sera che ogni persona in questo luogo possa vedere iniziare a vedere una stagione nuova sulla sua vita una consapevolezza nuova una consapevolezza nuova in te Signore una rivelazione di chi realmente siamo in te grazie Signore per ogni persona qui presente io dichiaro che da questo giorno in poi Signore tu segnerai questo giorno nel cuore di ognuno di noi vedremo persone entrare sempre di più nella tua chiamata Signore dichiariamo una parola per ognuno di noi Signore che ognuno di noi possa entrare nella sua chiamata e portare effetto avere impatto in questa città Signore in questa nazione Signore ovunque ci porterai noi crediamo in ciò che tu hai stabilito per noi grazie papà grazie a tutti grazie a tutti